se siete interessati all'aggiunta di soldi nei vostri account contattatemi in chat privata dove potrete visionare i listini ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto al titolo andremo a parlare di novità che sono appunto uscite in questi ultimi giorni che riguardano appunto l'aggiornamento di gta online quindi comunque ragazzi vi ricordo che sicuramente uscirà qualcosa a dicembre di grosso quindi approfittate e ne fate i glitch che stanno uscendo adesso quindi come avete sentito negli ultimi giorni su ps3 e su xbox 360 hanno rimosso le classifiche e la possibilità di condividere le foto su snapmatic perché l'hanno fatto non si sa però ragazzi l'hanno rimosso verrà rimosso appunto completamente il 2 dicembre che è un lunedì mentre ragazzi il 3 dicembre è un martedì quindi si poteva aspettare un trailer oppure un dlc il 3 dicembre perché di solito ragazzi come ben sapete rockstar rilascia di martedì dlc però tezfans2 che appunto è un noto leaker insomma lo conoscete tutti quanti anche lui pensava che il 3 potesse uscire qualcosa ma qualche giorno fa ragazzi ha twittato che il 3 non uscirà un bel niente quindi ragazzi si spera per il 10 almeno io credo per il 10 dicembre uscirà qualcosa perché sennò poi andiamo troppo in là per appunto le sorprese festive di natale con la neve tutta quella roba lì che aggiungono ogni anno fatemi sapere secondo voi quando uscirà questo benedetto dlc che ancora non si sa con precisione di cosa si tratti avevo fatto un video riguardo sono trapelate le informazioni appunto riguardo alla mod della polizia con appunto annessa intervista di Rob Nelson che ha parlato appunto dell'interessamento di rockstar a ampliare gta online nel senso delle mod vita reali queste robe qui come su pc ovviamente le mod non ci stanno però sicuramente faranno qualche cosa a parte appunto per fare un rp ovvero appunto una specie di roba reale possiamo dire questa intervista era stata fatta prima di Halloween voi ne aveva detto che per Halloween arriveranno nuovi contenuti nuovi contenuti divertenti ma così non è propriamente stato perché come ben sapete hanno aggiunto solamente i veicoli e delle attività degli alieni mentre ci annuncia che per il mese appunto di natale sicuramente arriverà qualcosa di bello grosso fatemi sapere secondo voi cosa potrebbe arrivare io comunque vi ricordo che manca ancora un'auto del casino ovvero la Vapid Vajotekasser che inizialmente doveva uscire il 31 ottobre quindi praticamente un mese di ritardo per far uscire quest'auto poi hanno cambiato l'ordine e si spera ragazzi esca il 28 novembre l'ultima auto doveva uscire appunto il 7 novembre però non si capisce questo ritardo dovuto a cosa ragazzi fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti io spero si sbrighino a rilasciarla perché almeno così esce subito qualcosa di nuovo che sicuramente serve a GTA Online perché normalmente è un gioco di 6 anni che perde un po' di giocatori però ragazzi lo stanno continuando ad aggiornare ed è questo l'importante poi altra cosa importante Rob Nelson ha parlato anche di rapine delle rapine come erano belle e tutto quanto quindi non escludiamo la possibilità appunto di nuove rapine in arrivo su GTA Online quindi ragazzi spero che questo video sia piaciuto vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video